Certo che i nostri spaghetti sono di più. E lo sai perché? Perché sono più buoni, più corposi. Dai, vieni. La pasta è fatta solo di acqua e grano. Per fare una pasta così buona, devi saper scegliere i grani migliori. Io il mio lo curo come un figlio. Però quante soddisfazioni che danno questi figli.